Allora, IT Wallet. IT Wallet ne avevo già parlato, no? In un buongiornissimo. Ne avevo parlato di questa roba di IT Wallet, però magari qua lo riassumerà. Allora, sulla carta IT Wallet è ottimo, Mariano. Vedremo, vedremo. Allora, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera a IT Wallet, cioè sistema di portafoglio digitale italiano che avrà una dimensione pubblica attraverso l'app Io e una dimensione privata, IT Wallet privato. Il futuro dell'IT Wallet è stato deciso all'interno delle discussioni sullo schema del decreto di legge PNRR applicato il 26 febbraio. Cos'è IT Wallet? IT Wallet sarà un portafoglio che conterrà i principali documenti digitali che si potranno usare anche tramite smartphone. Tutti i documenti che potrà contenere sono ancora in fase di definizione, anche perché IT Wallet partecipa alla creazione del prototipo del EUD Wallet, che è l'identità digitale europea che avevamo visto, che lui è affidato a quattro consorzi diversi. Lo scopo di un'identità digitale europea unica è quella di razionalizzare le identità digitali degli Stati membri, dando vita a un solo strumento per accedere con molta più facilità rispetto ad adesso anche servizi online comunitari. Al momento infatti ci sono dei nodi digitali che collegano solo alcune EID, quindi identità digitali europee, e che impediscono l'accesso ai servizi online dei paesi che non fanno parte dello stesso nodo. Quindi naturalmente se sei sull'app digitale su IONO, sui servizi di IONO in Italia, non puoi accedere ai servizi tedeschi con lo stesso EID. E invece questo va a unificare il tutto. Quindi ci saranno due tipologie, IT Wallet pubblico e IT Wallet privato. L'emissione dell'IT Wallet pubblico per cittadini e impresi, madonna, ma tutto adesso, tutt'oggi i refusi, eh? Mi fate fare brutta figura. Quindi per cittadini e imprese sarà gratuito. Sull'app I.O. che ospiterà l'IT Wallet si potranno caricare una serie di documenti. Tra i primi ci saranno la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Quindi, finalmente, olè, potremmo lasciare a casa la patente e la tessera sanitaria. E quindi mia moglie si incazzerà ancora di più, perché già io, quando esco di casa e non devo prendere la macchina, non mi porto il portafoglio. Perché naturalmente non me ne faccio niente. Pago con, no? Pago con lo smartphone, do uno smartphone al mio negoziante e lui in cambio mi dà del cibo. Però, quindi adesso, se posso metterci pure la patente, addio. Cioè, il portafoglio a casa del tutto. Benissimo. Sono molto contento. L'accesso al portafoglio avverrà sia con Speed, eh? Sia con la carta identità elettronica. Sebbene si prevede che in futuro la CIE sarà lo strumento per eccellenza debutato all'accesso a IT Wallet. Però questo non ho capito come potrebbe, come può funzionare questa cosa. Cioè, devo avere il lettore di carte? Cioè, come faccio ad usare la carta identità elettronica per accedere a IT Wallet? Gli faccio... Cioè, è NFC? Non lo so. Io ammetto la mia ignoranza e titubanza. Perché se non ho il lettore, forse è NFC e io non lo sapevo. Potrebbe. Potrebbe. Allora, entro l'estate, così come appreso da solo 24 ore, ci sarà l'integrazione nell'app IO della patente di guida. Vabbè, l'hai già detto. In questa prima fase, i documenti potranno essere usati solo offline. Cioè, mostrati attraverso lo smartphone. Eccolo qui. Come nel caso della patente di guida, richiesta dalle forze dell'ordine per controllo. Perfetto. Quindi, se mi fermano, li pago con lo smartphone, anche in questo caso. Manuel che dice, al posto del portafoglio, il power bank. Altrimenti se finisce la batteria non è più un documento. Vero anche questo. Questo non è male. Io ho sempre il terrore. Quando vado in treno, no? Prendo il treno, naturalmente, o l'aereo, o lo smartphone col biglietto su. Però il terrore che, metti che, o si, ma neanche si scarica. Metti che in quel momento non funziona. Quando lo devo mostrare non funziona. Ho il terrore. Metti che sull'aereo, un po' meno, perché c'è il, perché va direttamente nel wallet, no? Cioè, il biglietto va direttamente nel wallet e quello lo posso usare offline. Ma sul treno, tipo io piglio spesso Italo, e quello non mi dà il biglietto nel wallet, almeno che io sappia. Magari me lo sono perso. E quindi il biglietto è solo online. Io devo andare sull'app per vedere il biglietto. E quindi ho il terrore che se sono in treno e vado sull'app, se non c'è connessione, che cazzo di biglietto li faccio vedere? Niente. Quindi cosa faccio? Faccio lo screenshot del biglietto prima di salire in treno. Così eventualmente, ho il backup, no? Faccio vedere lo screenshot. In realtà, se gli dite il nome, loro trovano il nome. Però, per... Ho lo screenshot. Sono fatto così. Poi lo stampo. Potrei fare lo screenshot e stamparlo, così sono ancora più backupato. Vabbè, comunque, solo offline. Quindi patente offline, pagate le forze dell'ordine con lo smartphone. Giovanni, devi scaricare il PDF. PDF di Italo? No, non ci penso neanche. Quello poi me lo mandano solo via mail e lo cestino proprio subito appena arriva. L'uso online dei documenti tramite l'app Io per transazioni e operazioni è da attendersi tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2025. Ah, quindi potete fare sui servizi online, tac, usiamo il documentino che ho. È carino, ma sarà preceduto da una fase di sperimentazione che traghetterà l'uso offline nell'uso online. Va bene. Questa fase di passaggio da offline a online servirà anche ai servizi privati per adattare le proprie strutture informatiche al ricevimento dei documenti digitali. Per esempio, le banche per delle operazioni di accensione mutuo, ma anche servizi di noleggio audio. Bellissimo. IT wallet privato, come si capisce dal nome... No, in realtà non capisco assolutamente il nome. Cosa sarebbe un IT wallet privato? Prevede soluzioni di portafoglio digitale private offerte da soggetti interessati, che però dovranno ottenere un accreditamento da parte dell'Agid, quindi l'agenzia di appellità digitale. Gli IT wallet privati potranno provvedere un contributo, ma non ho capito a cosa servono gli IT wallet privati. Non ho capito. Cioè, ho capito cosa sono tecnicamente, ma non a cosa servirebbero. Per i biglietti dei concerti, tipo? Non lo so. Allora, due decreti attuativi prima di iniziare a vedere qualcosa. Affinché IT wallet diventi effettivo, servirà però, nei prossimi mesi, un primo decreto attuativo con linee guida che interverranno sulle caratteristiche tecniche, la tipologia dei servizi resi disponibili e le modalità di accreditamento presso l'Agid, vabbè, del privato. L'attuazione del sistema IT wallet è affidata alla società Pago PA, SPA, e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Perché all'Istituto Zecca dello Stato? Non dovete stampare niente. Voi chiuderete, Zecca dello... Chiusi! Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato? Qua, in due mesi, voi chiudete, non dovete più stampare nulla, zero stampanti nel mondo. Sarà inoltre necessario un secondo decreto attuativo per specificare in dettaglio i compiti e le funzioni assegnate a Pago PA e al Poligrafico dello Stato. Che non si può fare in un decreto solo? No, bisogna fare due decreti. Non fare il populista, vedo. Allora, inoltre, il secondo decreto stabilirà la data a partire dalla quale sia IT Wallet pubblico sia IT Wallet privato saranno resi accessibili. Sarà anche chiarita la tipologia dei servizi che potranno essere oggetto di pagamento da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati come fornitori di servizi. Va bene. Tutto il progetto IT Wallet costerà allo Stato 102 milioni di euro per ciascun anno in cui verrà estesa la sua messa in opera. Quindi 2024, 2025, 2026. 102 milioni di euro. Eh, Mariano? Come giudichiamo questa spesa? PNRR. 102 milioni di euro. Mi pare buono. Anche perché qua sono tutti finanziati, eh? Qua PNRR è approvato. Non dobbiamo più sganciare niente. Ci arriva tutto dall'Europa. Quindi approvato. Basta. Quindi noi da... La data qual era? Da giugno? Do, 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 do. L'ho letto giugno. 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 No, solo qua l'ho letto giugno. Poi la versione pubblica è entro giugno. Eh, c'è scritto qua in un approfondimento. Quindi mi fido del approfondimento. Manuel cosa dice? Con 30 euro il mio fariname lo faceva meglio. Sì, ma lo faceva fisico. Io voglio... Lo faceva tipo istituto poligrafico dello Stato. Zecca di Stato. Invece no. Noi lo vogliamo digital. Mariano dice servono. Vediamo se aprono un bando per i fornitori. Guarda, ehm... Credo che i fornitori che hanno... Cioè i fornitori quelli che hanno risposto al bando per Speed non è che... Non credo che siano proprio super felici di averlo fatto oggi. Però... E... Basta. Questo è la IT Wallet.